Benvenuti! Siamo arrivati ad ottobre, un mese che per noi che acquistiamo manga sarà veramente difficile, soprattutto con tutti gli annunci che hanno fatto in occasione per il Lucca Comics. Ma ecco qua le uscite di ottobre 2022, ma non perdiamo tempo e cominciamo subito. Partiamo con Star Comics che pubblica il mercoledì, quindi dal 12 ottobre, perché il 5 non pubblicheranno nulla. Bagemono Katari, Monster Tail 15, Dulling the France 7, Mao 12, Scams Wish 1, No Guns Life 12, 19 ottobre, A Te Che Conosci l'Azzurro del Cielo 2, Boys Run the Riot 3, Eletticola New Edition 28, Dragon Ball Ultimate Edition 6, Noah of the Blood Sea 1, Olimpia Kiklos 6, Tuione Eternity 17, Trillion Game 1, Vanishing My First Love 1, Villan Saga 26, 26 ottobre, Cardcaptor Sakura Collectors Edition 9, Cesare 13, Creamy Mami 6, Demoslayer 21 con Limited, Fairy Tail Collection 9, Ghost Girl 2, Gundam Thunderbolt 17, Inuyasha White Edition 7, Kaiju Number 8 5 con Variant, Tower of God 7, Demoslayer Official Character Book Anime 1, Ione La Principessa Scallatta 36, e in occasione del Lucca Comics pubblicheranno anche venerdì 28 ottobre, Ariadne in the Blue Sky 15 con Limited, Ariadne in the Blue Sky Starter Pack, Ariadne in the Blue Sky Variant Cover 1, Claymore New Edition 1, Fire Punch Box Pieno e Vuoto, Four Knights of the Apocalypse 5, I Cavalieri dello Zodiaco Final Edition 1 con Variant, I Cavalieri dello Zodiaco Time Odyssey 1 con Collectors Edition, Look Back con Deluxe Edition e Box, One Piece 102, Rabbids Forest 1, Shaman King Red Crimson 2, ed ora passiamo a J-Pop che pubblica il mercoledì, quindi dal 5 ottobre, Dance Dance Don't Serve 7, I Quattro Fratelli Yuzuki 3, Kemono GN 13, Microid S 1, Yozakura Family 8, Otoko Zaka 10, Rent a Girlfriend 11, The Rising of the Shield Hero 20, 12 ottobre, Dandadam 2 con Variant Pop Store e Games Academy, Game of Famiglia 8, Anagokun Artwork, La Maschera di Smout 2, My Death Star Darling 6, Shadowhouse 10, Under Ninja 5, 19 ottobre, Alice in Borderland 5, I Am A Hero New Edition 7, Kingdom 54, Comi 23, Loro Olympus 2, Love Sick Dead insieme alla Variant, The Promised Neverland Grace Field Collection Set 3, 26 ottobre, What About J-Box, Blue Giant 3, Buddha 6, Cioccolatier Cioccolata per un Cuore Spezzato 5, Lady Snowblood New Edition Box, Love Afterworld Domination 5, Overload Light Novel 9, Smile Down The Runway 6, Tokyo Revengers Pack, ed ora arriviamo alla Planet Manga che è pubblica il giovedì, quindi dal 6 ottobre, Soft Metal Vampire 4, 13 ottobre, 20 Century Boys Ultimate Deluxe Edition 8, Agente 008 15, Black Clover 32, Boruto 17, Demo Slave 5, Yujutsu Kaisen 16, Kingdom Hearts Chain of Memories Silver 2, Mursi e Lago 21, Noragami 25, Swinstar Exorcist 27, 20 ottobre, Blue Lock 15, Blue Sky Complex 2, City Hunter Rebirth 10, Excuse Me Dentist 2, Fire Force 30, Fire Force 1 Variant, Giant Killing 53, Mushoku Tensei 13, Namekizakari ma che è sfacciato 5, Proteggi la mia terra 6, 27 ottobre, Atelier of Witchet 10, Boys Abyss 3, Asher 21 Complete Edition 8, Game, Giochi di Seduzione 5, Guns'è 3, L'Attacco dei Giganti Colossal Edition 12, L'Attacco dei Giganti Guida Definitiva ai Personaggi Artbook, L'Usuraio 37, Soft Metal Vampire 5, Delusive Samurai 1 Con Variant, lo so che sto interrompendo le uscite, ma notando che l'85% delle persone che guardano i miei video non sono iscritte al canale, mi sento in dovere di invitarvi ad iscrivervi al canale e di lasciare un like al video, grazie di cuore a chiunque lo farà, ma ora continuiamo con queste uscite, ed ora passiamo a Dynit col 21 ottobre, Junket Bank 4, La Stella dei Giants 4, Memoria dell'Isola Ventaglio 1, Inokuni, L'Erede della Luce e il Principe Catto 1 Con Box, 28 ottobre, Animal Crossing Horizon, Il Diario dell'Isola Deserta 4, Back 5, Big GTO Deluxe Black Edition 10, Border 66 4, Full Knight 1, Hello Spank 7, I Semi dell'Eros 3, La Stella dei Giants 5, Ninokuni, L'Erede della Luce e il Principe Catto 2, Okami Rise 5, e ora passiamo alla Magic Press con giorno 6 ottobre, Cosmetic Play Lover 3, Il Buio Oltre la Finestra Triangolare 7, 13 ottobre, 36.000 secondi al giorno 4, Curvi e Bello, Last Game 7, Keep Beat 19, Eminence in Shadow 4, ed ora passiamo alla 001 Edizioni con giorno 13 ottobre, Cinema 2, Gannibal 6, 26 ottobre, Gene Man 2, JK Haru 3, Terrarium 3, ed ora passiamo alla Bao Publishing con giorno 7 ottobre, La Taverna di Mezzanotte e Tokyo Stories 6, ed ora passiamo alla Gazzetta dello Sport, che ogni venerdì pubblicherà Aikyu, e questo mese usciranno i volumi dal 32 al 35, e sempre il venerdì andrà avanti in Naruto Saga, dove giorno 7 e 14 usciranno le guide ufficiali al manga, giorno 21 uscirà la light novel della leggenda dei ninja coraggiosi, e il 28 un'altra guida ufficiale al manga, bene, per oggi è tutto, ovviamente vi ho detto solo le uscite confermate, quindi se nel corso del mese ci saranno l'invii, o delle uscite pubblicate all'ultimo, nel caso vi lascio un link in descrizione con una lista che si aggiungerà nel corso del mese, e scrivetemi nei commenti quali sono i manga che prenderete questo mese, e alla prossima! Grazie a tutti per aver guardato il video,